A lontana speriamo solo momentaneamente il Bari dalla zona playoff, ma non è questo quello che preoccupa. Preoccupa invece la circostanza che il Bari anche ad Empoli è venuto meno nella ripresa in modo inspiegabile sul piano fisico. Il ricordo del match con l'Albino Leffi è ancora fresco, ma già in precedenza il fenomeno si era presentato. Difficile quindi parlare di casualità o nascondersi dietro il dito del campo pesante sul quale ha giocato anche l'Empoli. Più di Antonio Conte a fornire una spiegazione potrebbe essere il preparatore atletico Giampiero Ventrone. Il suo lavoro dovrebbe garantire una omogeneità di rendimento fisico-atletico nell'arco della stagione e la riduzione ai minimi termini degli infortuni muscolari grazie ad allenamenti differenziati. Non sappiamo cosa riserverà il futuro, ma di fatto i due progetti non si stanno realizzando. Ieri sera Salvatore Masello è uscito per un ennesimo problema alla coscia. C'è poi la difesa che continua a prendere goli incredibili. Come ha potuto Pozzi di spalle alla porta con tre barese addosso, controllare il pallone, girarsi e trafiggere gilet? Che fine ha fatto la difesa ermetica impermeabile di inizio campionato? Sono questi i temi sul tappeto. Insieme alla constatazione che se Camatà non è ingiornata, il Bari perde il 50% della sua capacità offensiva. L'errore da non commettere è comunque quello di deprimersi per non vanificare quanto di buono è stato fatto. Il Bari può rilanciarsi prima della lunga sosta natalizia. Sulla sua strada troverà Piacenza e Modena, due avversari abbordabilissimi. Quanto secondo te il Bari?